Ost 2019, ci troviamo allo stand della Tecno Inox, un'azienda friulana con 35 anni di attività. Siamo in compagnia della responsabile commerciale Italia, Martina Giacomini, che intanto invitiamo a salutare. Benvenuta Martina! Buongiorno, grazie Fabio di questa opportunità. Salutiamo tutto il pubblico che ci segue. E al quale ora spieghiamo che cosa presentate qui a Ost 2019. Qui a Ost 2019 presentiamo la nostra gamma di forni Tecno Combi, che è stata totalmente rivista per l'estetica ed è stata anche migliorata per la performance e l'utilizzo, perché Tecno Inox ha sempre a cuore il lavoro degli chef, il risultato sulla materia prima e quindi la nostra priorità è rendere questo lavoro più semplice e avere anche risultati migliori. Questo è il frutto di 35 anni di attività. Riepiloghiamo in 60 secondi questi 35 anni, lo so, non è facile, però proviamoci. Questi 35 anni hanno visto molte evoluzioni dell'azienda. Siamo partiti producendo prodotti più piccoli, come le salamandre, che sono prodotti complementari che tuttora sviluppiamo, alle linee di cottura, prima per gli snack bar, poi per la piccola ristorazione e poi anche per la grande ristorazione. Quindi abbiamo adesso una linea cottura completa che va appunto a coprire tutte le esigenze del mercato. Per poi addentrarci anche nella produzione di forni combinati dal 2011, con adesso due gamme, che sono i forni TAP e i forni Tecno Combi che presentiamo oggi. Quali le caratteristiche vincenti dei forni Tecno Combi che andate a presentare proprio oggi? I forni Tecno Combi assicurano allo chef il massimo controllo su tutti i parametri di cottura e lo fanno in maniera molto facilitata perché abbiamo introdotto una nuova tecnologia con tasti touch, tasti a sfioro, e quindi l'utilizzo ricorda il normale utilizzo che facciamo con la tecnologia che utilizziamo tutti i giorni. In più questi forni coniugano alla facilità di utilizzo anche delle grandi performance. Abbiamo infatti migliorato, oltre all'uniformità di cottura, anche l'iniezione del vapore e anche la stessa estrazione del vapore. Senza scordarci che i vostri forni sono autopulenti. Assolutamente sì perché la pulizia è comunque una di quelle cose che se fatta manualmente richiede molta mano d'opera, mette anche a rischio l'utente, quindi la pulizia automatica è uno dei plus che ci devono assolutamente essere al giorno d'oggi. Martina, che cosa vi ha spinti a progettare e realizzare questa linea dal momento che avevate già una linea top che vi rappresentava magnificamente? Sì, noi già dal 2015 siamo presenti con i Fornitap, la nostra gamma top di gamma. E a dire la verità, la gamma Tecnocombi era già presente dal 2011. Era però una gamma un pochino sottovalutata perché aveva un'estetica non troppo moderna e anche un utilizzo un po' più antiquato. Quindi abbiamo voluto rinnovare, dare una rinfrescata alla linea, linea che adesso richiama appunto quella della famiglia Tecno Inox. E abbiamo anche voluto con l'occasione implementare delle funzionalità in più per essere in linea con le esigenze del mercato di oggi. Senza dimenticare la linea dedicata ai piani di cottura che rappresentano per voi uno zoccolo duro. Sì, assolutamente. È ormai 35 anni che Tecno Inox progetta e realizza attrezzature di cottura. Quindi noi siamo nati con la cottura e continuiamo a farla. Ci inventiamo sempre delle soluzioni nuove per rendere la vita più facile agli chef. Vita più facile non solo a loro ma anche a tutto il personale di cucina. Oggi presentiamo ad esempio una linea rivista della Novecento con dei nuovi optional appunto per rendere il loro lavoro di utilizzo degli strumenti in cucina più semplice e più igienico. E infine voi avete una rete di concessionari e rivenditori estremamente ben organizzati e capillari sul territorio. Tuttavia c'è sempre la maglia un po' più larga per cui per chiunque desidera avere maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti e o al rivenditore concessionario a lui più vicino. Qual è la casella di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno? Allora, intanto tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet www.tecnoinox.it Vi invito anche a seguire il nostro canale Facebook e la casella di posta è www.tecnoinox.it Molto semplice. Martina, grazie. Grazie a te Fabio.